Buongiorno, buongiorno, oggi è mercoledì 4 novembre, la segna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con l'informazione, cielo nuvoloso, non si escludono alcuni debole precipitazioni lungo la cresta di confine, Massimo Moro in regia, a quel subito diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani locali, l'Alto Adige dedica spazio al ticket gratis per 1200 malati, esenzione a chi ha patologie circolatorie, lo dice l'assessore Stoker, 4 lavoratori fanno causa al BBT, vittime di mobbing, i vertici della società sperano di trovare un accordo, Nepal, la missione possibile è quella di salvare l'economia, il reportage del cineoperatore Bolzanino Marco Polo, sfida che accolgo con entusiasmo, queste le parole del commissario del comune di Bolzano, Penta è ancora, ancora ex Memc, occupata la fabbrica, niente arretrati, continua la protesta dei lavoratori, il Corriere dell'Alto Adige, ASL Shell, chiede 60 milioni di euro, bilancio in rosso, rischio tagli, l'assessore Stoker Cauta, valuteremo le necessità, intervista sulle pagine del Corriere dell'Alto Adige, anche qui troviamo l'intervista al commissario Penta e poi innovazione, premiato il Museo Civico di Bolzano per la mostra Suoni per vedere, la cronaca linguatresca a cura del quotidiano Donomiten, Sanità, l'allarme lanciato dal numero uno Shell che dice bisogna mettere in campo la classica cura da cavallo oppure servono semplicemente più soldi, la cronaca a cura del quotidiano Tagest Zeitung, un reportage, un'inchiesta sulla destinazione dei vestiti utilizzati e raccolti dalla Caritas, vestiti usati, sembra che vengano venduti per accogliere fondi e non semplicemente regalati, sempre per la cronaca dei quotidiani settimanali che troviamo in edicola, il mercoledì troviamo Vicu all'interno del Dolomiten, si parla del ruolo dei lavoratori oltre i 50 anni, ruolo fondamentale per l'economia altotesina. È tutto, grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.